Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Oggi parliamo di film natalizi perché, diciamo la verità, tutti noi nel periodo natalizio ci mettiamo davanti alla televisione e ci vogliamo un bel film ambientato in quello che è il più bel periodo dell'anno. Questo sì, un po' è perché qualsiasi canale televisivo ormai proietta solo film di Natale però è anche vero che un po' ci piace perché ogni anno finiamo per guardare sempre gli stessi film che ci sanno incantare ed emozionare come fosse la prima volta. Quindi oggi vi parlerò dei 5 film che io e il Maritino riguardiamo ogni anno quest'anno anche insieme alla nostra bambina e che magari possono piacere anche a voi. Ovviamente mi farebbe piacere sapere quali sono i film che voi riguardate ogni anno e che insomma non vi stancano mai. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fate già di seguirmi su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Film numero 1, Elf con Will Farrell e l'attrice che interpreta la protagonista di New Girl della quale non pronuncerò il nome perché non lo so pronunciare. Comunque Will Farrell, noi siamo due grandi fan, io e mio marito, di questo attore ci guardiamo ogni suo film e quindi ogni anno non può mancare Elf. La storia di Buddy, un bambino, un orfano che il caso vuole finisca nel sacco di Babbo Natale e quindi Babbo Natale inconsapevolmente lo porta al Polo Nord. Qui, una volta arrivato il primo umano ad arrivare nel laboratorio di Babbo Natale viene adottato da un elfo e cresciuto insieme agli elfi. Quando però Buddy diventerà grande si renderà conto che poco ha a che fare con questi omini piccoletti che per tutto l'anno lavorano instancabilmente per creare giocattoli per i bambini. In ogni caso cresce amando il Natale con ogni cellula del suo corpo. Una volta diventato adulto scopre di essere stato adottato appunto da papà elfo, come lo chiama lui e decide di andare a New York per conoscere il suo padre, suo padre biologico. Una volta arrivato a New York però si rende conto che non è assolutamente come il Polo Nord lui è cresciuto in un mondo dove è tutto bello, tutti sono gentili, tutto è fantastico e dove si ciba praticamente solo di caramelle. New York non è così, suo padre addirittura è nella lista dei cattivi di Babbo Natale e lui dovrà fare conti con la vita frenetica di una delle città più grandi del mondo. Il film secondo me è molto divertente, io e Riccardo ci facciamo delle grandi risate ogni volta che lo guardiamo. Soprattutto perché Will Farrell riesce ad interpretare un uomo adulto ma che ha l'anima di un bambino perché è così che si vive il Natale, con lo spirito e l'anima di un bambino. Poi ovviamente c'è il messaggio che ogni film di Natale deve lasciare al suo pubblico. In questo caso l'importanza dello spirito del Natale, quindi credere nello spirito del Natale e credere in Babbo Natale perché è proprio questo che fa volare la slitta e le sue renne. Senza questo chiaramente Babbo Natale non può portare i suoi doni nelle case. Il film è del 2003 quindi un po' vecchiotto ma in realtà secondo me sempre attuale. Film numero 2, Il Grinch. Questo è sicuramente il mio film di Natale preferito in assoluto. Lo riguardo ogni anno anche se sono da sola perché non sempre Riccardo ha voglia di guardare Il Grinch mentre a me piace tantissimo. È stato fatto recentemente anche la versione animata però io continuo a preferire il film. Il Grinch è stato diretto da Ron Howard e da come protagonista Jim Carrey in una versione verde e perosa. La storia del Grinch la conosciamo tutti. Questo esserino verde che il vento ha trasportato per sbaglio nella città di chi non so e che viene accudito da due sorelle, due zie, non ricordo di preciso, comunque da due signore che lo crescono nello spirito del Natale perché la città di chi non so vive aspettando il Natale. Il Natale è il periodo più atteso dell'anno, si pensa a fare tanti regali ad addobbare le case, gli alberi sono pieni di luci, le case sono piene di luci e insomma in realtà è molta apparenza e poca sostanza però insomma il Natale è la festa che tutto il paese aspetta. Il Grinch invece si rivela essere un personaggio piuttosto fuori dalle righe, molto diverso dai suoi compaesani, cresce odiando il Natale. In realtà questo deriva da un'esperienza negativa avuta da bambino, un'esperienza amorosa negativa avuta da bambino durante il periodo natalizio e questo l'ha portato ad isolarsi completamente, a vivere in cima a una montagna dalla quale osserva il suo paese e nel quale si reca raramente solo per fare qualche dispetto. La sua strada si incontrerà con Lucy Liu, una bambina che ha bisogno di scoprire anche lei lo spirito del Natale per l'appunto perché sta iniziando a capire che il Natale vissuto come lo vive la sua famiglia in realtà non è proprio il modo giusto. Per realizzare questo film Ron Howard ha realizzato oltre 600 effetti visivi considerando che il film ha ormai 20 anni perché è del 2000. Inoltre i peli del Grinch sono stati attaccati sul costume di Jim Carrey uno per uno per rendere questo effetto peloso, morbidoso e così particolare caratteristico del Grinch. Inoltre sono stati utilizzati anche degli attori, dei ballerini del Cirque du Soleil che hanno fatto poi le comparse nel film. Io come ho detto all'inizio questo è assolutamente il mio film preferito in assoluto mi commuovo sempre quando arrivo alla fine, quando Lucy Liu canta la sua canzone perché come sempre alla fine siamo tutti più buoni a Natale e guardare qualcosa che ci lascia un messaggio così bello secondo me non può che far bene all'anima. Film numero 3 Un Natale in affitto Questo è un film del 2004 con Ben Affleck Allora l'attore principale, quindi il protagonista semplicemente ha bisogno di riscoprire un po' la sua infanzia o meglio il periodo del Natale che viveva con la sua famiglia. Visto che si è lasciato con la fidanzata, insomma vive una vita abbastanza arida decide di tornare nella casa, nella sua casa d'infanzia che però è stata presa, acquistata da un'altra famiglia che quindi vive all'interno della casa. Lui quindi decide di pagare questa famiglia perché finga di essere la sua famiglia quindi abbiamo una madre e un padre che devono fingere di essere i suoi genitori e anche un figlio e una figlia che dovranno fingere di essere il fratello e la sorella di Ben Affleck. Lui cerca addirittura scrivere dei copioni che devono leggere i vari personaggi perché vorrebbe proprio rivivere esattamente la sua infanzia e riscoprire un po' la bellezza di dicembre e del periodo natalizio quando si è bambini, quindi andare a giocare sulla neve fare l'albero tutti insieme, decorarlo, cantare insomma vivere proprio il Natale più tradizionale. Cosa succede? Succede che la sorella, la sua finta sorella quindi la figlia di questa nuova famiglia che vive nella casa in realtà non è assolutamente d'accordo lo considera un pazzo e i due si scontrano spesso anche se è abbastanza scontato tra i due poi in realtà riascerà una certa simpatia. Questo film a noi ci fa ridere ci fa ridere tanto però la cosa divertente di questo è che il film in realtà è stato anche candidato come peggior film, peggiore sceneggiatura e peggior attore protagonista quindi in realtà è stato un flop però viene riproiettato ogni anno noi lo troviamo sempre su Sky e lo riguardiamo sempre perché ci fa ridere il modo in cui Ben Affleck cerca di convincere una famiglia burbera e assolutamente non intenzionata ad assecondarlo di diventare la classica famiglia tradizionale natalizia. Film numero 4 Fuga dal Natale Anche questo è un film del 2004 praticamente sembra che i primi anni 2000 abbiano prodotto un sacco di film natalizi che poi insomma sono rientrati nella nostra classifica in questo caso abbiamo due genitori che per la prima volta si trovano a passare il Natale da soli senza la figlia fanno una riflessione e pensano a quanti soldi loro ogni anno spendono per rendere il Natale il più tradizionale possibile quindi albero, luci, regali, inviti a cena, amici insomma diventa una festa molto rispendiosa visto che questo è il primo anno senza la loro figlia ed era per lei che in realtà facevano tutte queste cose decidono di risparmiare tutti i soldi che avrebbero speso nel Natale e dedicarli ad una bella vacanza una vacanza al mare, al sole, insomma la vacanza dei loro sogni in realtà non hanno fatto i conti con i vicini di casa il quartiere si è sempre impegnato tanto per diventare il più natalizio possibile quindi renne sul tetto, frosti nel giardino, non so, alberi di Natale giganteschi, luci, inviti a cena, pranzi insomma loro si impegnano tanto e non sopportano vedere una casa, l'unica casa rimasta al buio spenta e senza nessun tipo di addobbo quindi la parte divertente è proprio questa queste due persone che si trovano a litigare con tutto il quartiere perché nessuno può accettare che il Natale venga eliminato che appunto loro scappino dal Natale il film è carino, è divertente come sempre noi guardiamo dei film che siano leggeri che ci facciano sorridere e che alla fine ci lasciano sempre con un sorriso o comunque con un messaggio positivo e anche in questo caso ovviamente c'è perché non si tratta anche qui solo di apparenza, di luci, di inviti a cena ma si tratta di capire qual è il vero spirito del Natale e come viverlo al meglio anche questo film, per non farci mancare niente, è stato candidato come peggior film però è anche vero che ha vinto dei premi o comunque delle candidature come miglior film per bambini e per famiglie quindi insomma noi adesso siamo una famiglia vera e propria e ce lo guardiamo, abbiamo il diritto di guardarcelo Film numero 5, Ogni maledetto Natale film italiano del 2014 con tantissimi attori super conosciuti abbiamo Cattelan, Guzzanti, Giallini, Mastandrea insomma tanti attori che in realtà ci piacciono tutti noi guardiamo molti film con questi attori quindi non potevamo non vedere anche questo che li trova tutti insieme nello stesso cast la storia è quella di due innamorati un ragazzo e una ragazza che per caso si incontrano pochi giorni prima di Natale si innamorano follemente e decidono di passare la vigilia di Natale con la famiglia di lei e il giorno di Natale con la famiglia di lui gli stessi attori interpretano le due famiglie quindi da una parte abbiamo la famiglia di lei una famiglia di contadini, persone di provincia piuttosto ignoranti, una famiglia molto grande attaccata alle tradizioni che vive in una casa isolata in mezzo alla campagna dove non c'è neppure linea sul cellulare dall'altra invece la famiglia di lui che è invece una famiglia altolocata grandi imprenditori che ogni anno a Natale fanno grandi offerte a questa carita ma comunque ad associazioni che si occupano dei poveri e che anzi ogni anno si concentrano molto sui profitti dell'azienda per decidere poi come muovere i loro investimenti nell'anno successivo quindi due famiglie veramente opposte è interessantissimo vedere come gli stessi attori interpretano due ruoli così diversi quindi è comica questa parte perché comunque gli attori ci fanno ridere hanno dei comportamenti simpatici però ci fa anche riflettere su come viene affrontato o può essere affrontato il Natale guardando soltanto ai soldi oppure guardando alle tradizioni, alla famiglia ma magari senza approfondire mai veramente il rapporto che c'è tra le persone il film so che ha ricevuto delle recensioni contrastanti a qualcuno è piaciuto a qualcuno no noi lo riguardiamo ogni anno perché ci piace molto ci piacciono gli attori come ho detto ma ci piacciono anche le situazioni perché soprattutto nella famiglia di campagna ci ritroviamo molto perché alla fine è un po' così che anche noi lo viviamo il Natale sempre facendo le stesse cose ogni anno con tutta la famiglia e insomma ci ritroviamo un po' e poi le situazioni sono esilaranti gli attori bravissimi quindi insomma lo guardiamo sempre volentieri bene ragazzi il video finisce qui questi sono i 5 film che io e Riccardo e adesso anche Katia guardiamo ogni anno durante il periodo natalizio fatemi sapere quali sono i vostri perché sono sicura che qualcuno di voi riguarda ogni anno almeno una volta all'anno mamma ho perso l'aereo che invece a noi manca non lo guardiamo tutti gli anni quindi niente vi aspetto nei commenti e noi ci vediamo prestissimo in un altro video ciao